Lei ci può chiarire un po' cosa sono queste terapie? Secondo me sono terapie, farmaci, applicazioni biologiche, perché questa cosa del biologico oggi... Certo, però cercherò di trovare le parole più semplici. Termini semplici, sempre per la signora Maria. Cosa si intende per biologico? Innanzitutto cosa si intende per farmaco? Il farmaco è una sostanza chimica che non appartiene al nostro corpo, che noi iniettiamo o facciamo assumere per bocca o per altre vie al nostro paziente, ma che assolutamente non fa parte del nostro corpo. Quindi è una sostanza estranea che ha una serie di effetti positivi, però essendo una sostanza estranea, come tutte le sostanze non estranea, può avere degli effetti, quelli che noi chiamiamo indesiderati e effetti collaterali. Il biologico invece è un qualcosa che noi abbiamo già dentro di noi. Faccio un esempio. Per assurdo, il più vecchio farmaco biologico è il cortisone, perché il cortisone è già prodotto dalla nostra surrenale che produce il cortisolo, che è l'ormone dello stress, è quello che ci serve per scappare quando ci rincorre il leone che ci vuole sbranare. Il cortisolo, assieme all'adrenalina, sono appunto i due mediatori salvavita che servivano all'uomo della giungla per salvarsi. Il problema qual è? Che il cortisone che noi andiamo a dare non è proprio identico al cortisolo e che inibisce una ghiandola, per cui a lungo andare questa ghiandola si blocca e poi ci sono tutti gli effetti collaterali del cortisone, che ormai tutti sanno.